Ok, adesso invece è il momento di presentare l'ospite d'onore di questa mattinata, l'ospite che viene da più lontano, ma che prima di arrivare così lontano era qui con noi, è partita proprio da Modena, una persona che ha fatto una carriera politica veramente in breve tempo interessantissima da tanti punti di vista, ma soprattutto io sono molto felice di chiamare qui con noi l'onorevole Chiang perché a settembre si è fatta portavoce proprio di quelle che erano le richieste che abbiamo sentito, sono partite dai pazienti stessi, protagonisti della strutturazione della carta del paziente. La carta del paziente è stata uno sforzo enorme, condiviso e partecipato da 11 associazioni a livello europeo. Abbiamo lavorato un paio d'anni a questo documento perché abbiamo prima indagato nei nostri singoli paesi, la nostra associazione era rappresentante per l'Italia, l'associazione di Steven per l'Inghilterra e così via. Dopodiché ci siamo di nuovo uniti, abbiamo condiviso tutto ciò che i pazienti avevano messo in evidenza e abbiamo creato questo documento che in qualche modo cerca di uniformare il trattamento di questi pazienti a livello internazionale. Non era facile coinvolgere i decisori politici, non era facile arrivare al Parlamento europeo. Se siamo arrivati a portare all'attenzione degli europarlamentari questa carta è veramente grazie anche a Cecil Chiang che è qui con noi oggi. E quindi un applauso da parte dei nostri pazienti che sono in sala ma anche dai nostri studenti. Grazie a te. Grazie a te. leggere, leggere, sottoscrivere, questa cosa è molto importante perché il nostro obiettivo sono 35.000 firme perché sono tanti pazienti che ogni anno in Europa vengono diagnosticati. Quindi firmate la nostra carta. Grazie. Grazie Rosalba, grazie a tutti. Devo dire che sentendo la presentazione di Rosalba ha parlato del percorso politico ma io prima di tutto sono medico e quindi tornando qui qui ritorna un po' tutta la mia passione con cui ho fatto 15 anni di medicina ma soprattutto occupandomi anche di malattie rare. Quindi sia come medico, medico, chirurgo e cercando di dare il più possibile ai pazienti. Quindi credetemi è difficile ritornare qui dentro e non provare quella nostalgia di un percorso che quasi mi ha caratterizzato tutto il tempo. Grazie a tutti voi perché ci avete insegnato veramente tanto. Io ho dedicato questa mattina qui dentro, ho deciso che la mia mattinata e la mia giornata oggi doveva essere dedicata a questo. assistere a tutti gli interventi, riuscire a capire cosa si trasmette, cosa si vive e riuscite a tradurre tutto questo a livello istituzionale. Un po' è stata questa la mia guida anche quando ho accettato a livello del Parlamento europeo di accompagnare questa carta europea del paziente. perché voi ci avete insegnato e non avete idea quanto ci avete insegnato una buona pratica che una buona pratica può anche rafforzare il livello di governanza a livello dell'istituzione. Come si fa a tradurre dal basso, entrare dentro l'istituzione, riuscire a non diventare semplicemente una persona che usufrisce di un servizio ma di aprirci gli occhi e di farci vedere che il paziente in realtà è protagonista, è colui che ci guida, il paziente e anche i familiari sono quelli che ci guidano a poter migliorare i nostri servizi, a poter andare oltre, a poter fare delle nostre politiche, qualcosa che è attraversata da umanità, qualcosa che è attraversata proprio da quell'essere del rispetto dei diritti umani, della persona che molte volte viene lasciata fuori quando facciamo le leggi o quando siamo dentro un ufficio a legiferare, a normare dimentichiamo di coniugare legge e società civile, legge e casi particolari. Io sono sempre dell'idea che dare un volto alla politica vuol dire anche portare questo, vuol dire portare delle specificità, vuol dire portare storie umane come quella che ci avete fatto vedere questa mattina. Questa carta quando è arrivata a livello del Parlamento ci ha fatto capire anche quali erano le debolezze, ma questo lavoro il grosso l'avete fatto voi e noi abbiamo l'obbligo di poter andare oltre, e di poter farvi vedere in che modo rendere concreto tutto questo per riuscire a rimuovere gli ostacoli e aumentare la qualità della vita delle persone. Io l'ho fatto con molta facilità perché prima vivevo dall'altra parte, dalla parte del medico, quindi per me è stata molto facile entrare dentro, perché per me considerare trovarmi davanti al paziente non era semplicemente trovarmi davanti alla malattia, trovarmi davanti al paziente voleva dire trovarmi davanti quasi a qualcosa che ti appassiona, quasi come se fosse un'opera che tu devi migliorare, rendere bello sia per te, sia per la persona, sia per la società, andando oltre gli ostacoli e quindi avendo proprio quel approccio olistico che dovrebbe caratterizzare ogni medico, andare oltre il tempo che molte volte viene assegnato al medico che non riesce più a andare quella logica economica che potrebbe anche deviare il percorso di uno specialista. La carta è stata portata avanti appunto da 11 associazioni di tutta Europa, quindi voi vedete cosa significa Europa anche qui dentro, significa la capacità di fare rete, andare oltre le frontiere, significa la capacità di trovare un punto di riferimento da qui partire per collegare tutti i paesi, 28 stati, quella che abbiamo sempre chiesto, se la Costituzione dell'Unione Europea parla di solidarietà, se la Costituzione dell'Unione Europea parla anche di alcune voci che sono equa ripartizione delle responsabilità, deve essere tradotto in questa e noi dobbiamo apprendere da voi cosa significa, cosa significa la concretezza della solidarietà e siamo riusciti attraverso i punti che ci avete dettato in questa carta a poter richiedere e vedere che questa carta venga diffusa a livello di tutti i paesi, 28 stati, che questa carta che chiede tra i suoi punti il fatto dell'accesso alle cure, quindi l'accesso ad ogni persona alle cure, questa carta che chiede un approccio olistico, anche il modo in cui viene considerato il paziente, la persona che troviamo davanti, chiede il fatto di garantire informazione di alta qualità, la possibilità di poter avere accesso alle cure pagliattive e anche di fine vita. Io volevo riportare tutto questo, tutto quello che è contenuto appunto in questa carta in passaggi particolari, perché quello che riguarda la formazione, l'assistenza, la ricerca e tutta la parte tecnica ce l'avete dimostrata questa mattina e anche tutto quello che si fa sul territorio. Invece il ruolo del deputato è quello di portare tutte queste stanze a livello dell'istituzione e anche quella di poter orientarvi a capire in che modo, oltre al fatto di poter evidenziare queste stanze, in che modo lo potete rendere concreto. L'intervento precedente ce l'ha mostrato e credo che questa cultura deve essere sviluppata ancora di più in Italia. La ricerca, la ricerca prima di tutto, la ricerca la trovate anche in progetti europei, la ricerca la trovate anche in programmi che fa l'Europa a disposizione appunto della cittadinanza e tutto questo viene contenuto in una voce che molte volte viene sottovalutata e non viene capita. Al nord magari questo concetto passa di più rispetto ad alcune regioni del sud, sono i fondi strutturali. Attraverso i fondi strutturali l'Europa dà una risposta, quindi quando voi sentite dire che l'Europa è una matrigna, l'Europa è cattiva, l'Europa è un nemico, in realtà non è così. Noi dobbiamo imparare a conoscere l'Europa per capire che l'Europa può diventare un'opportunità, può diventare un'opportunità ma bisogna conoscere questi punti. Il primo punto è il fatto che noi possiamo incidere con quello che ci avete dimostrato, con l'istituzione nazionale, regionale, locale, come incidere sugli obiettivi di una strategia che dura 7 anni a livello europeo. Adesso questa strategia è stata già tracciata che si chiama Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, vuol dire che contiene tutti i programmi, io mi soffermerò soltanto su due che sono di interesse di questa platea, in questo luogo. Tutti i progetti con delle risorse veramente enormi che possono essere messe a disposizione. Il primo punto è quella sulla ricerca. La ricerca, come dicevo prima, fondamentale, ma lo trovate in un progetto e in un programma che si chiama Horizon 2020. Horizon 2020 che è ricerca e innovazione, vi potete ritrovare là dentro perché è un fondo veramente cospicuo, che il budget previsto per il periodo 2014-2020 è di 79 miliardi di euro. Allora quando non viene conosciuta questa voce, questo programma, voi capite che i fondi strutturali sono quei fondi che l'Europa mette a disposizione dei diversi stati membri che possono essere utilizzati o direttamente con i governi, quindi messi a disposizione dei governi, oppure direttamente dall'Unione Europea che attraverso i suoi bracci allungati, si può dire così, quindi interlocutori diretti che sono le agenzie sul territorio, gli affida la possibilità di utilizzare questi fondi. Capite che quando non si entra in questa cultura europeista all'interno delle istituzioni si è fuori da tutto, quindi da una parte è il percorso che avete fatto che io ammiro e credo che sia una buona pratica da sviluppare in tutti i settori, partendo da quella carta portata appunto dalla fibrosi pornonare idiopatica, ma deve essere veramente sviluppata in tutti i settori per arrivare a come capire che l'Europa è un'opportunità e questo è il secondo punto che molte volte manca, manca a livello dell'istituzione, manca a livello molte volte anche delle organizzazioni, che se sono piccoli e che non si mettono in rete, questo voi l'avete capito, perché vi siete messi in rete per lavorare e far sì che una patologia rara che magari avrebbe trovato pochissima attenzione se fosse isolata da sola, presentato, vi siete messi in rete e insieme siete diventati una forza, entrare all'interno di questa comunità, di questa unione che sembra impenetrabile ma in realtà basta poco per riuscire a capire e orientarsi. Horizon 2020, ricerca e innovazione, capacità di fare rete. Io ho visitato ieri qui a Modena e qui vicino a voi il centro Ferrari, è un centro di ricerca dove vicino c'è il tecnopolo, il tecnopolo che diventa fondamentale per Modena che ha capito cosa significa anche fare ricerca e entrare nel mondo del lavoro, entrare nel mondo economico, entrare nel mondo accademico, ha messo tutti insieme, tutti insieme dove magari per poter fare una ricerca e produrre un farmaco di una patologia rara sarebbe diventata veramente un labirinto, una montagna da poter superare ma attraverso il concetto di trovare un punto di raccordo tra mondo accademico, mondo della ricerca, mondo economico e i giovani vedete che le cose cominciano ad avere un volto molto più amichevole. È così che attraverso per esempio il certo Ferrari si è trovata la cura per una patologia rara che è quella delle cellule staminali per quanto riguarda patologie oculari, ma con questo spirito. Quindi il mio compito oggi è duplice. Da una parte vengo qui come medico e tornando qui mi viene la voglia molte volte di tornare indietro, però mi rendo conto che curando una persona, facendo del bene a una persona, io faccio del bene a una persona, a due, a tre, ma assumendo questo ruolo politico di decisore all'interno dell'istituzione io moltiplico quel numero per mille, per tanti altri, perché non guardo più una persona ma guardo attraverso la specificità, guardo una comunità di 28 paesi e quindi sono veramente felice di questa opportunità di poter trasmettere questo perché il mio lavoro è quello di essere a disposizione dell'altro. Il mio obiettivo non cambia, quello che era da medico rimane anche adesso da politico, essere a disposizione delle persone vulnerabili, essere a disposizione del prossimo per riuscire a tradurre il tutto in una vita che diventa vivibile veramente per ogni persona. Quindi io vi ringrazio. Il secondo invece progetto è quello della salute, quindi avete Horizon 2020. Ho dato a Rosalba alcuni opuscoli e di quello che io ho fatto in questi mesi ho prodotto degli opuscoli con tutti i programmi, progetti ben specifici per ogni settore, per ogni gruppo, anche per quello che riguarda il mondo accademico, il mondo medico e quindi troverete tutto all'interno di questo opuscolo con un programma ben specifico anche sul mondo della salute, come cercare stili di vita, come cercare delle risorse, come potersi approcciare appunto a tutto quello che può offrire l'Unione. Questa carta, come vi dicevo prima, ci ha veramente aperto gli occhi e ci ha fatto capire cosa significa lavorare con le altre persone, cosa significa lavorare con il paziente che diventa protagonista e come migliorare il servizio grazie anche a quelli che usufruiscono tutti i giorni di questo servizio. Grazie veramente tanto e avrei tanto da dire perché quando mi ritrovo nel mio mondo, che io chiamo così, non riesco più a fermarmi, però io mi devo fermare qui anche perché insieme a me ci sono altri due deputati che hanno firmato questa, altri tre deputati che hanno firmato questa carta, si tratta di Mercedes Bresso, Elena Gentile e Nicola Caputo. Non sono qui con noi ma saranno con noi attraverso un video che proietteremo e che fa veramente piacere vedere che tutti insieme anche al Parlamento europeo riusciamo a trasmettere questo messaggio e proprio per questo abbiamo creato anche l'intergruppo informale di tutti i medici, di tutta Europa per trattare fuori da quelli che sono i luoghi istituzionali temi che possano interessare i diversi medici nei diversi gruppi politici e nelle diverse commissioni. Grazie. Cari amiche, cari amici, vi ringrazio per avermi invitato a questa importante iniziativa, mi sarebbe proprio piaciuto essere con voi, purtroppo sono costretta a farvi sentire la mia vicinanza con questo messaggio. Le autorità politiche hanno secondo me il dovere oggi più che mai di dimostrare con i fatti il loro impegno nei confronti di tutte le persone che soffrono, in particolare coloro che vengono colpiti da malattie rare dovrebbero sentire al loro fianco la presenza delle istituzioni. La ricerca sulle malattie rare, lo sapete, non rappresenta un profitto per le grandi multinazionali del farmaco ed è in questi momenti che entra in gioco l'importanza del settore pubblico nella ricerca così come nella cura delle persone. Una sanità pubblica che sia adeguatamente finanziata e ben organizzata rappresenta spesso l'unica speranza per molte persone che oggi soffrono e per coloro che purtroppo verranno colpiti da queste terribili malattie in futuro. Proprio poco tempo fa ho firmato la carta europea del paziente con fibrosi polmonare idiopatica. In questa carta le richieste sembrano semplici, miglioramento delle condizioni di vita dei malati, un livello di cura standardizzato, un ecoaccesso a diagnosi e trattamento in tutta Europa. Purtroppo oggi questi che sembrano standard minimi devono ancora essere raggiunti, anche nel nostro paese. Sostengo quindi con forza la necessità di un riconoscimento a livello nazionale della fibrosi polmonare idiopatica come una malattia rara, proprio come abbiamo già fatto in Piemonte e in Toscana. Sarà anche necessario rinnovare in Italia e in Europa l'assistenza ai malati e la ricerca in generale per le malattie rare. Oggi l'Europa ci offre molte opportunità per scambiare buone pratiche, condividere conoscenze, avvicinare le diverse esperienze. L'Unione Europea deve aiutarci a compiere un salto in avanti nella ricerca, anche per le malattie rare, che possa offrire veramente a tutti i malati una vita migliore e che possa un giorno, il più presto possibile, trovare soluzioni di cura per le malattie che ancora oggi non sappiamo come affrontare. Vi faccio i miei migliori auguri per il vostro lavoro di oggi e del futuro e vi abbraccio con tanto affetto. Buongiorno a tutte e a tutti. Questa mattina discuterete di un tema particolarmente rilevante non solo nell'agenda politica nazionale, ma anche, ritengo, nell'agenda politica europea. Nonostante i numeri, noi dobbiamo acquisire una nuova consapevolezza, che è quella della rilevanza del tema delle malattie rare, non solo e non tanto dal punto di vista della ricerca scientifica, della ricerca farmacologica, ma anche rispetto alla opportunità di costruire reti e connessioni nei vari Stati membri e soprattutto per creare le migliori condizioni perché si promuovino politiche di presa in carico delle persone con malattie rare, soprattutto dei nostri bambini e delle nostre bambine, per creare un sistema di welfare sempre più attento ai bisogni, alle esigenze anche di inclusione sociale e sociolavorativa. Una particolare attenzione alle famiglie, al loro carico talvolta ingestibile rispetto al quale ogni comunità deve avviare buone pratiche perché non solo i pazienti ma anche le famiglie si sentano meno sole. L'Europa sarà in campo, lo è già stata, ma riprenderà il confronto per potenziare, per implementare, per accrescere appunto la ricerca e il sostegno ad un sistema di welfare, ma anche per implementare un nuovo network che offra alle persone affette da malattie rare e alle loro famiglie quel livello di benessere, di qualità della vita che ogni cittadino e ogni cittadina comunitaria meritano. A voi il mio augurio di buon lavoro e la certezza che qui in Parlamento avvieremo un livello di confronto e di discussione che mostri per intero la nostra sensibilità al tema che voi oggi discuterete. Ancora un saluto affezosissimo e un augurio di buon lavoro. Salve, vorrei innanzitutto ringraziare l'associazione Ama fuori dal buio per avermi invitato a partecipare a questa conferenza sulle malattie rare, un tema che considero assolutamente importante. L'articolo 35 della Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione europea recita che ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche. Tuttavia, troppe volte chi soffre di malattie rare deve purtroppo confrontarsi con ingiustizie e disuguaglianze di trattamento. Penso ad esempio alla disparità nella tempestività della diagnosi e alle difficoltà nell'accesso alle terapie e agli stessi farmaci. L'Europa ha fatto progressi nel campo delle malattie rare. Attualmente sono 16 gli Stati membri che dispongono di piani per esse rispetto ai solo 4 del 2008, ma ritengo che molto resta ancora da fare per garantire davvero che le persone affette da malattie rare possono ricevere la diagnosi e i trattamenti necessari nel più breve tempo possibile. Nel mio ruolo di eurodeputato mi sono occupato da vicino del problema delle malattie rare, presentando diverse interrogazioni alla Commissione europea, tra cui recentemente quella sulla fibrosi pulmonare idiopatica, con la quale ho chiesto l'introduzione di standard di cura condivisi a livello europeo e l'istituzione di un fondo europeo di solidarietà per consentire un accesso equo ai pazienti degli Stati membri e cure autorizzate dall'Agenzia europea del farmaco, ma non invece nel mercato a causa dei ritardi nell'approvazione da parte delle agenzie nazionali. Le persone colpite da malattie rare devono essere sostenute e la difficoltà di conoscenza rispetto ad alcune malattie devono essere superate con una maggiore interazione e per questo motivo che la messa in comune di conoscenze e competenze a livello europeo e la collaborazione tra gli Stati membri vanno ulteriormente sviluppate. Nel complimentarmi per le organizzazioni di questa lodevole iniziativa colgo l'occasione per salutare Ama fuori dal buio e tutti i partecipanti alla conferenza. Rinnovo il mio supporto alla causa e faccio un caro saluto a tutti. Ragazzi va sicuro che è emozionante avere dei decisori politici così importanti che abbiamo parlato di pazienti orfani ci hanno adottato, è proprio un'adozione del cuore mi viene da dire la loro. Io adesso so che ci sono due studenti perché abbiamo avuto il Selmi presente qui oggi ma abbiamo reso protagonisti anche i ragazzi del Sigogno e i ragazzi del Deledda che avevano due domande da fare all'onorevole Chiang e quindi chiedo che si avvicinino, chiedo ad Antonio se possiamo avere un gelato, un applauso ai nostri tecnici che ci stanno facendo un servizio stupendo, bravi bravi bravi. Questo sarà per gli studenti e poi magari risponderà. Sono già qui però prima ancora io ho un regalo per l'onorevole, è un pensiero e soprattutto credo che sia un simbolo perché è una penna visto che ha firmato e ha sottoscritto la carta del paziente è una penna però è una penna speciale perché si apre e diventa anche una penna USB. Questo simbolo vorrebbe proprio significare che siamo partiti da una firma, speriamo di poter avere 16 gigabyte di interessanti notizie, informazioni e buone pratiche da condividere. Quindi grazie, questo è un nostro piccolo pensiero per te. Ok, allora l'onorevole lo facciamo accomodare qui. Mi chiamo Camilla Spattini e frequento la quinta superiore del liceo Carlo Sigogno. La nostra domanda è, la realizzazione della carta del paziente può essere un utile strumento per il miglioramento della vita e delle persone affette da malattie rare. Ci chiediamo se sono in progetto per corsi analoghi a quello che è stato seguito nel caso della fibrosi polmonare idiopatica per il raggiungimento di altre carte del paziente per altre malattie rare. Allora, intanto, buongiorno a tutti, sono qui a rappresentare la scuola Cattaneo dell'Edda di Modena. Avevamo molte domande ma sono già state pienamente soddisfatte nel corso del convegno, eccetto una. I telegiornali e i giornali parlano del mondo che cade a pezzi, ma per quanto si parli di negatività c'è anche qualcosa di positivo, come questa associazione che fa davvero molto, oltre a mettere la nostra firma sul sito. Cosa possiamo fare concretamente per sostenere questo progetto e migliorare il futuro? Grazie. Grazie mille. Prima di tutto, complimenti per aver coinvolto i giovani in questo percorso, perché noi abbiamo bisogno proprio di coinvolgere il mondo accademico, le scuole, ma proprio i giovani come protagonisti. Le domande non sono facili, perché mi sembra di essere ritornata in cattedra. La prima domanda è quella di sapere se ci sono altre esperienze per la carta del paziente. Questo è l'obiettivo a cui dobbiamo arrivare. Arrivare a un punto in cui in tanti settori, come ho detto durante il mio discorso, questa buona pratica deve diventare sistema. Quindi non soltanto rimanere per quello che riguarda la carta del paziente per una malattia rara, ma entrare nel sistema per vedere in che modo la società civile, i malati, i familiari concorrono a poter migliorare il welfare, ma anche la sanità. Quindi se noi facciamo entrare questa carta non più come un'esperienza, una pratica isolata, ma come parte della metodologia di lavoro, come parte di una modalità di pensare per arrivare a dei risultati, credo che la nostra sanità, la nostra Europa e il nostro welfare subirebbero dei passi da giganti. Quindi la risposta è andare in direzione non di un'altra carta del paziente per un'altra patologia, ma entrare a fare sistema, diventare sistema. Per me questo è l'obiettivo che mi ha insegnato questo bellissimo percorso che avete fatto. La seconda domanda è un po' il fatto di vedere i giornali, il mondo della comunicazione, che molte volte magari trasmettono il pessimismo, ma i giovani hanno bisogno di punti di riferimento. Questo noi abbiamo l'obbligo di poterli dare, sia a livello di leader politici, a livello di istituzione, a livello anche di esempio come quello che voi state facendo come società civile, come mondo accademico. Hanno bisogno di questo, esempi positivi da seguire, da prendere a modello, per uscire un po' da quel buio che molte volte fa piombare i nostri giovani in quello che è una mancanza di prospettiva. E quindi noi abbiamo proprio questa responsabilità di andare in questa direzione. Il lavoro che dobbiamo fare tutti insieme è quello di migliorare prima di tutto la comunicazione, il mondo della comunicazione. Io su questo mi sono battuta in passato e continuo a battermi su questo, sul peso delle parole, sulla qualità dell'informazione che trasmettiamo, perché attraverso il nostro comportamento noi trasmettiamo qualcosa di positivo e diventiamo un modello educativo. Dall'altra parte, oltre che migliorare il linguaggio, i giovani si possono impegnare in diversi settori, come il mondo della ricerca, come non soltanto attraverso la solidarietà, ma attraverso il loro impegno, l'impegno sociale. E questa lo possiamo trovare in diversi settori. Ora, la risposta è molto specifica, il tempo è breve, ma nomino soltanto alcuni settori dove i giovani possono anche trovare la loro dimensione e sapere che sono utili all'interno della società. Parlo del servizio civile nazionale, dove i giovani possono fare, attraverso un programma, un progetto come il servizio civile nazionale, andare a lavorare all'interno delle organizzazioni, dove il volontariato viene riconosciuto e oggi all'interno, per esempio, del servizio civile nazionale, che troviamo in alcuni luoghi anche regionale, questo percorso diventa anche formativo, perché viene riconosciuto e quindi vi apre le porte anche al mondo del lavoro. Ci sono programmi come Erasmus+, non più all'interno del territorio italiano, ma fuori. Proprio le modalità che avete utilizzati, 11 associazioni di tutta Europa, Erasmus+, vi porta fuori dai confini del nostro paese, per andare a sviluppare la cultura europeista in un altro paese, ma lo potete fare in qualunque luogo, con qualunque organizzazione, attraverso progetti come Garanzia Giovani. Quindi voi vedete che quando ci sono le informazioni utili, quando avete dei leader, delle persone giuste che vi possono trasmettere delle informazioni e capite che a questo punto l'informazione può essere e può trasmettere qualcosa di pessimismo, ma voi siete oltre. E molte volte, dico sempre, la società civile è avanti, molto avanti, molte volte più della politica. Quindi in bocca al lupo e spero di vedere sempre tanti più giovani protagonisti nel mondo. Grazie. Allora adesso abbiamo approfittato di avere l'onorevole Chienga Modena e di averlo qui con noi, perché abbiamo... Ehi, com'uovo. Abbiamo una sorpresa perché c'è una persona a cui forse l'ho già detto stamattina, voglio particolarmente bene. Stefania Ciarri, vieni qui. Lei e il suo bambino. Allora, l'onorevole ti consegnerà questa targa, spieghiamo perché e spieghiamo da parte di chi. Questa targa arriva dall'associazione, ma arriva soprattutto dai pazienti, perché quest'anno Stefania è diventata ricercatrice universitaria e quindi ci tenevamo a farti dare un applauso da tutti noi. E che io senza di lei non saprei più come fare, richiedi in Inghilterra a proposito di Europa e di opportunità. E lei lo sta, veramente, sta facendo un lavoro che meritava, meritava veramente tanto questo riconoscimento. Credo che i pazienti concordino, vero ragazzi? Vai, eccoli lì. Grazie a te. Non è finita, adesso l'onorevole ha un altro annuncio da fare e fra un po' Antonio ci darà il suo contributo dopo l'intervento dell'onorevole. Dunque, l'associazione Ama fuori dal buio ha ottenuto la menzione speciale Intermoon dedicato a Giovanna Corder e destinata a iniziative di comunicazione meritevoli per la realizzazione e la promozione della Carta Europea del Paziente con IPF, quindi fibrosi polmonari di opattica, durante la terza edizione del premio giornalistico OMAR sulle malattie e i tumori rari. Inoltre, il fotoreporter Aldo Soligno, il cui intervento seguirà subito dopo la premiazione, ha ottenuto sempre per la terza edizione del premio giornalistico OMAR sulle malattie e i tumori rari la menzione speciale Genzim per le arti visive e per il progetto Rari Lives. Grazie. Buongiorno, un saluto a tutti gli amici dell'associazione Ama fuori dal buio, un saluto in particolar modo a Rosalba Mele e un saluto da Osservatorio Malattie Rare a tutte le persone che oggi a Modena per celebrare la giornata delle malattie rare si sono riuniti. So che siete moltissimi, ci sono delle associazioni, ci sono anche le istituzioni. Vogliamo darvi un piccolo annuncio, anche se non vi sveleremo tutto. Quest'anno due delle menzioni che il premio OMAR ogni anno attribuisce alle associazioni o anche alle persone, agli professionisti che abbiano saputo impegnarsi nella divulgazione e nel comunicare agli altri le malattie rare o i tumori rari o comunque nel portare avanti i diritti dei pazienti, sono state attribuite a una persona e a un'associazione che sono oggi presenti tra voi. L'associazione, come tutti immaginate, è proprio l'associazione di Rosalba Mele, Ama fuori dal buio. L'associazione di Rosalba è stata premiata quest'anno per il suo grandissimo impegno che ha messo nella stesura e nella divulgazione della Carta Europea dei diritti dei pazienti, che è poi stata presentata al Parlamento Europeo. Complimenti Rosalba, ti aspetto il 3 marzo a Roma, mi raccomando non mancare. Spero che sarai tu per l'associazione a ritirare questo premio. Ma c'è anche una seconda menzione che quest'anno è stata attribuita ad un'altra persona e anche lui è tra voi oggi. È Aldo Soligno, un fotografo, un professionista che oggi è diventato più o meno il sinonimo di qualità nei reportage per le malattie rare. E proprio per questo, in particolar modo per il suo ultimo bellissimo lavoro che è stato presentato in questi giorni, Aldo riceverà anche lui un premio e quindi una menzione. Aldo, mi raccomando, aspettiamo anche te. Un saluto a tutti e grazie ancora per aver anche voi festeggiato la giornata delle malattie rare. Allora, Aldo e lui, l'avrete capito, che interverrà dopo. C'è una piccola cosa che io devo fare. Questo premio giornalistico che ci è stato assegnato per me ha un significato particolare perché, sì, andremo noi a Roma a ritirare questo premio. È stato dato a noi, associazione italiana, perché abbiamo curato l'interfaccia grafico e la realizzazione del sito. Intanto ringrazio veramente tanto Manuel Segovia e Marcello Parmegiani perché hanno collaborato alla realizzazione di questa carta del paziente dal punto di vista grafico e web. Ma soprattutto devo ringraziare le 11 associazioni in rete, quindi le altre 10 associazioni, tutti i pazienti, sia i nostri qui a Modena, sia quelli che negli altri paesi hanno lavorato e oltre questo premio, questa menzione, noi abbiamo anche vinto un premio in denaro. Si parla di 1.500 euro. Daniela Magnani, vieni qua. Questi 1.500 euro andranno al gruppo di supporto per realizzare le iniziative del prossimo anno. Grazie. Daniela, viene che vorrei fare una foto, tutti quanti. Anzi, io a questo punto chiederei ad Aldo, all'onorevole Chiang, ma anche ai pazienti, ai rappresentanti delle aziende farmaceutiche che sono in sala, a tutti quanti, di unirci per quella che è la foto che solitamente si fa nella giornata delle malattie rare. Adesso ve la spiego, poi vi raggiungiamo, è molto semplice, ci alziamo tutti in piedi, incrociamo le mani così, una dietro l'altra, quindi cercando di imitare il simbolo della giornata delle malattie rare perché vorrei veramente che ci rimanesse un ricordo di noi come squadra.